Un incontro in prefettura per fare il punto sulla peste suina tenerà alta la guardia anche in provincia di Savona dove tra Sassello e pochi giorni fa anche Mioglia sono stati riscontrati dei casi nuovi. Sono stati appunto rilevati negli ultimi tempi un incremento anche se limitato dei casi, questo ci induce una particolare attenzione, convocheremo nelle prossime settimane un aggiornamento del tavolo che si è già riunito in prefettura per una verifica complessiva delle misure che il commissario a sua volta tra l'altro sta aggiornando nell'ambito dell'apposito piano nazionale. Aumentare le sinergie e tenere alta la guardia contro un potenziale disastro di proporzioni forse non chiare a tutti, questo è l'obiettivo dichiarato del commissario straordinario e spingere affinché le misure da adottare vengano finanziate e siano usate in modo complementare. E' inutile mettere la rete se poi non facciamo il depopolamento, è inutile fare il depopolamento se non sappiamo esattamente dove è arrivata la malattia. Per fare tutte queste cose c'è bisogno di finanziamenti. Con la comparsa del virus anche in provincia di Savona e l'inverno come volano per la diffusione si teme uno sconfinamento verso il Cuneese dove a differenza della Liguria vengono allevati milioni di suini. Facile immaginare il disastro economico se la peste arrivasse. Fin lì sarebbe uno scenario di incubo mentre la speranza è quella di seguire le orme del Lazio dove su un territorio più piccolo però la peste suina sta per essere sconfitta. Ci vuole tempo, ci vuole anche grande coordinamento tra tutti, ci vuole comprendere esattamente quali sono gli sforzi. Lo scenario peggiore non me lo ci faccio pensare.